e bella per tutti voi eccoci qua con la nuova retro flash con il nostro fade 91 che anche oggi sta qui con noi e presentiamo mafia come è uscito in anteprima nel video oggi vi presentiamo mafia un free roaming uscito su xbox e pc veramente fantastico chiunque chiunque l'ha giocato non può esserselo scordato perché è veramente un capitolo importante della storia dei videogiochi sull'ombra di gran turismo di gran turismo per le corse con le macchine comunque si nel senso era una foglia di gran turismo si si ha preso molto da mario kart no ma è bello che voi scherzate ma addirittura era uno dei primi giochi a gestire la frizione cioè in un gioco free roaming per esempio cioè era veramente calcolato tutto al di là poi che c'era anche una trama pazzesca degna dei migliori film discorsese vero vero e poi comunque si staccava un po' dall'ambientazione di gran turismo che era abbastanza attuale si era molto moderno fra virgolette si ha lanciato un cult anche come genere ecco se chiunque abbia visto quei bravi ragazzi ecco questo è il gioco se vi è piaciuto quel film questo è il gioco che fa per voi cioè è proprio molto cupo molto picciotto esatto molto gangster abbiamo un conto partiamo appunto dall'essere Thomas Angelo questo tassista immischiato in un sacco di faccende poco chiare che si ritrova a entrare nella famiglia Salieri per aver aiutato appunto due quei cosiddetti bravi ragazzi l'immancabile coppola io me lo ricordo per pc ma i controlli come l'hanno riadattati per console perché queste cose sono sempre un po' capito allora sinceramente non lo so anche io l'ho giocato su pc e ovviamente hanno esatto hanno fatto tipo hanno aggiunto solo una cosa che nella versione pc non c'era che era la modalità corsa che permetteva appunto di fare dei giri di pista nella missione che appunto c'era anche per pc ti costituiva a guidare una macchina da corsa e basta poi c'era la modalità tutto gas dove dovevi svolgere delle piccole missioncine un po' assurde che richiedevano una grandissima abilità alla guida e ti davano anche delle auto in premio e poi la modalità classica da free roaming allora ho detto bene Gran Turismo dalla fine era un gioco un doppiaggio spettacolare perché per l'epoca comunque i doppiaggi dei videogiochi erano più difficili di adesso erano molto più difficili sì quello assolutamente certi propri erano improponibili da sentire erano veramente degli ottimi doppiaggi doppiatori seri non doppiatori presi dalla Svizzera come quelli di Metal Gear Solid 1 per intenderci era mosso dal Quake Engine cioè dall'ITEC di IDTEC 3 mi pare lo stesso motore di Quake 3 e era portato anche lì ai suoi massimi livelli comunque questo era il gioco che vi consigliavamo questa settimana cliccate mi piace alla nostra pagina di Facebook guardate un altro nostro video iscrivetevi al nostro canale YouTube e a quello del nostro ospite Fade91 to Black o di OCSN quindi ci vediamo la settimana prossima a martedì con un altro retro flash bella bella bella